Ok, Sindaco, quello che salva gli occhi, leggendo i dati è che il Sud stavolta è stato veramente decisivo per il risultato a livello nazionale. Sì, il Sud ha fatto una resistenza costituzionale importante, sono davvero orgoglioso da napoletano, da meridionale, c'è stato un risultato straordinario, un risultato di grande proiezione verso il futuro, perché questa non è una posizione di conservazione, questa è una posizione di progresso per finalmente attuare la Costituzione fino in fondo, soprattutto gli articoli che puntano alla giustizia, sociale ed economica, all'uguaglianza sociale ed economica, alla difesa dei beni comuni, al diritto al lavoro e alla centralità della persona. Quindi che venga da Sud un messaggio così forte, credo che sia anche un segnale di come sta cambiando il paese. Invece il dato relativo a Napoli c'è un impressionante quasi 70%, anzi in provincia della città metropolitana è 70% pieno per il no. Beh, abbiamo anche qui in Campania, a Napoli, respinto l'accordo sistemico tra Renzi e De Luca, che hanno fatto di tutto, di tutto per cercare di spingere al voto del sì e hanno avuto, diciamo, il popolo sovrano ha rottamato il saldatore. Renzi è stato il saldatore in questi anni, il popolo sovrano l'ha rottamato e Napoli col 70%, la Campania col 70% ha dato un risultato fortissimo. Credo che ci sia bisogno, da parte soprattutto di De Luca e Renzi, di un bagno di umiltà e poi riprendere a lavorare nel rispetto delle istituzioni. Io ho sempre portato molto rispetto per il Governo nazionale e per il Governo regionale, molto meno dall'altra parte. Adesso c'è bisogno di cooperare istituzionalmente e poi la politica farà il suo corso. Sindaco, secondo lei elezioni in primavera del 2017 o governo tecnico fino al 2018? Non lo so, non mi interessa perché io faccio il sindaco di Napoli e ho slegato questo voto dalla contingenza politica. L'avete visto, non ho mai detto che bisogna votare no perché bisogna mandare a casa Renzi. Questo è un effetto collaterale necessario e ovviamente a questo punto dovuto perché è stato Renzi che ha personificato e personalizzato molto il referendum. Io credo invece da sindaco che ci voglia una bella legge elettorale, bisogna quindi fare una legge elettorale democratica e poi andare a votare. Si può votare anche nel 2018 se il Presidente della Repubblica trova una soluzione istituzionale in grado di rafforzare la coesione nel nostro Paese. Perché il Presidente del Consiglio ha avuto un altro demerito di dividere in questo momento l'Italia, diceva lui, tra i buoni e i cattivi. Il Paese deve essere unito nei valori costituzionali e quindi oggi forse un governo di alto profilo istituzionale che faccia una legge elettorale e poi si vada a votare nel 2018 può essere sicuramente una soluzione. Se invece si va a votare, Napoli è pronto. C'è anche una battuta sulla inaugurazione. Sì, sindaco oggi è una giornata importante anche per la città metropolitana che inaugura una scuola bellissima nel centro di Napoli. Siamo felicissimi perché qua c'è un grande sforzo che abbiamo messo in campo come città metropolitana. Ringrazio tutti perché sono lavori straordinari di riqualificazione seria dell'Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta. Quindi siamo davvero soddisfatti. Voglio ringraziare anche tutta la comunità scolastica che ha dato un grande contributo. dell'ulteriore dimostrazione che noi siamo quelli che abbiamo impiegato in un momento di maggior crisi economica il maggior numero di risorse per l'edilizia scolastica a Napoli e in tutti i comuni della città metropolitana. Una quantità di risorse che non si vedeva dal periodo tragico del terremoto dove tra l'altro furono spese in modo assolutamente non positivo.